Dopo oltre 17 anni del crollo si scrive la parola fine su una vicenda che ha visto un susseguirsi di proteste, inchieste, frani, inquinamento, progetti e soldi pubblici spesi. Stiamo parlando della ex discarica La Torre nella piccola frazione di Poggio San Vittorino a Teramo. I lavori avviati nel giugno dello scorso anno e ora terminati hanno permesso di mettere in campo per la discarica metodi innovativi e moderni capaci di salvaguardare la collina e armonizzare il sito con l'ambiente circostante. Arriviamo a questo risultato e a questo obiettivo che io direi storico, storico per la nostra città intanto perché si tratta di un intervento che produce un beneficio ambientale con un risanamento di un sito inquinato, una ferita aperta per la nostra città che oggi finalmente viene risanata oltre ovviamente ad un beneficio di carattere economico. Non dimentichiamo che nel corso di questi anni i cittadini terramani sono stati costretti a pagare cifre enormi in termini di smaltimento del percolato, oggi restituiamo la collettività tutta, in particolare ovviamente alla frazione di Poggio Cono e Poggio San Vittorino che sono state quelle più ferite, più colpite dal problema della discarica, ma tutta la città restituiamo un sito, uno spazio risanato su cui continueremo ad investire anche sotto l'aspetto della transizione energetica con la realizzazione di una comunità energetica che è la nostra intenzione su questo territorio e su questo spazio. L'opera è stata finanziata con 2,6 milioni di euro di fondi masterplan stanziati dall'ex giunta regionale D'Alfonso con la compartecipazione economica del comune per 300 mila euro. Devo ringraziare la regione Abruzzo intanto nella figura dell'ex presidente Luciano D'Alfonso che ci ha consentito di mettere in campo le risorse a valere sui fondi del masterplan e l'attuale assessore Campitelli con il quale abbiamo proseguito il percorso e il lavoro che ci ha portato con tutti gli enti e tutti i soggetti a raggiungere questo obiettivo storico. Però il lavoro non finisce qui perché ancora c'è tanto percolato da togliere? Ormai siamo in via residuale, lei pensi che in questi anni ci tenete la mano in termini di smaltimento del percolato anche per scelte amministrative di chi mi ha preceduto totalmente sbagliate hanno pagato almeno 6 milioni di euro dal 2011 dati alla mano a valere sulla tariffa dei rifiuti. Adesso ovviamente è una fase di chiusura. Soddisfazione anche da parte del comitato di scarica La Torre che in tutti questi anni si è sempre battuto per mettere la parola fine a questa vicenda.